Proseguono le operazioni di recupero degli ordigni bellici ritrovati dai militari dello SDAI della Marina Militare nelle acque del porto di Molfetta. Grazie alla disponibilità dei militari del genio guastatori dell'esercito, distanza Foggia, possiamo proporvi le immagini del recupero di un fusto contenente 29 bombe da mortaio. Con l'ausilio di una gru e dei sommozzatori, il fusto è stato recuperato dall'acqua e adagiato sulla diga foranea. Successivamente, i militari hanno provveduto al controllo dei residuati bellici e al loro lavaggio con la collaborazione dei vigili del fuoco. I 29 ordigni sono poi stati caricati su un furgone dell'esercito che, scortato da Polizia Stradale, Municipale, NBCR dei Vigili del Fuoco e un'ambulanza del Sermolfetta, ha raggiunto una cava in territorio di Ruvo di Puglia, dove si procederà con le operazioni di brillamento. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni con le stesse modalità.